Il pesce azzurro è sbarcato anche a Senigallia. La spiaggia di Velluto ospita il quinto ristorante self-service della catena di ristorazione che ha la casa madre a Fano e che oltre a esportare un format gastronomico basato sul pesce azzurro ricco di Omega 3, crea anche occupazione e sviluppo territoriale, dato che ben oltre 15 unità lavorative trovano posto nella nuova sede senegaliese. Per la verità Senigallia è stato sempre un nostro sogno. Pensavamo già dal 2008, poi per vari motivi non siamo riusciti, per cui oggi si avvera quello che era una intenzione di parecchi anni fa, perché pensiamo che sia una buona piazza, una città vivace, viva, con tante iniziative e anche i senigallesi con tutta la popolazione limitrofa credo che apprezzino molto l'offerta che noi proponiamo. Testimonianza ne è il fatto che tanti senigallesi, anche vicino a Senigallia, frequentano molto il nostro ristorante di Fano, per cui oggi ci avviciniamo noi a loro e speriamo così di attirare molte più persone di questa zona. Per noi questo rapporto con pesce azzurro è importante, l'abbiamo cercato negli anni, abbiamo cercato una collaborazione con Fano, che è una città amica e siamo contenti che è una bella esperienza, come tutte, possono essere esportate. Allora da oggi pesce azzurro anche a Senigallia e avremo la possibilità per, speriamo, i tanti avventori della nostra città. L'anno scorso abbiamo fatto un milione di presenze e questo ci aiuterà sicuramente a fare meglio.